Coesione e competizione è uno dei rapporti più belli che facciamo assieme a Union Camere e a Banca Intesa, perché noi, come spesso capita nei rapporti di simbola, cerchiamo nell'Italia che c'è le radici del futuro, non cosa bisogna fare, ma cosa in parte stiamo facendo. E quello che viene fuori molto spesso è che essere buoni conviene, cioè che le imprese, per esempio per quanto riguarda questo rapporto, che hanno migliori relazioni con i lavoratori, con il territorio, con i subfornitori, con le comunità, vanno meglio anche economicamente, esportano di più, innovano di più, producono più lavoro. Sono circa il 40% delle imprese manifatturieri italiane e ci parlano di un'economia a misura d'uomo che può essere in prima fila nelle grandi sfide aperte, a cominciare dal contrasto alla crisi climatica e possono costruire, a partire dalla nostra identità migliore, un'Italia più a misura d'uomo, un'Italia che fa l'Italia.